benvenuti pezzi di porifango blu il canale dell'azio billy questo è il nickname dell xbox 360 se volete aggiungermi perchè sto a fare sto video perchè ci stanno un sacco di giochetti che praticamente abbiamo smanettato io e i miei amichi e allora uscivano a fare delle cose divertenti e ce le guardiamo insieme primo gioco in questione è questo è quel pezzo di crota maledetto che ci ha fatto veramente perdere l'anima vabbè sparano all'infinito contro il vetro e lo sapete che sul vetro non si spara vabbè niente saluto sasi starnutendo daniellone e tutti gli altri pure laiki vedo che sta bello un carognito vabbè questa era crota a livello questa girata questo è sempre crota ovviamente la parte finale abbiamo schippato tutto il resto e qui dove partono tutti i missili di gallaro poi more e vai e non mi ha troppato un cazzo eh sto gioco è così ragazzi eh stitico veramente in una maniera imbarazzante eccolo qua battlefield hardline l'ho messo perchè non è che mi faccia impazzire troppo sto gioco però questo è quello che vorrei fare io per strada ultimamente sul raccordo di roma che non si cammina più ecco così proprio la belletta e vai vabbè comunque giochetto c'è chi è appassionato piace io l'ho messo perchè era una beta era carina poi mi hanno acciaccato niente vabbè ma cello continua non si capisce una minchia ma a proposito di giochi di merda questo è il destiny cinese io così lo chiamo warframe è in pratica un gioco gratis dovrebbe essere ma non è vero perchè il giocacce dispende un sacco di sordi andiamo avanti oh dragon age inquisition beh è un bel gioco eh a me è piaciuto tanto ci sto ancora giocando è lunghissimo e anzi ve lo consiglio se vi piacciono i giochi di ruolo il problema è che il multiplayer è un po' all'offio qua un video che mi faccia vedere che ho distrutto un drago con le freccette